ciao sono luca istruttore fitness personal trainer insegnante di arti marziali con specializzazione in armi tradizionali benvenuto nel corso di nunchaku livello intermedio il secondo capitolo del corso di nunchaku nuovi argomenti nuove rotazioni nuovi maneggi nuove prese nuovi modi di utilizzare nunchaku si aggiungeranno a quelli spiegati nel corso base in modo tale da amplificare la tua visione di allenamento il corso è diviso in sette capitoli in ognuno approfondiremo ed analizzeremo una tematica differente nel dettaglio approfondiremo l'argomento rotazioni le prese frontali le prese laterali il lavoro interno ed esterno e gli stop dell'arma introdurremo l'utilizzo delle gambe con il nunchaku e le rotazioni sui polsi oltre due ore di spiegazioni e dimostrazioni a velocità normale e rallentata ti aiuteranno a migliorare sempre di più che aiuteranno a raggiungere prima i tuoi obiettivi ma soprattutto imparerai ad utilizzare in maniera più sicura e coordinata questo fantastico attrezzo ci vediamo alla prima lezione buon allenamento